Tu sei una nuova inquilina? Sì, perché? Perché qua non si fa tutto questo chiasso. Io ero di là che stavo lavorando e tu e i tuoi amici avete fatto un cazzo... Sì, tu... Cosa c'è? Parla più piano, a quest'ora dorme tutto il palazzo, tu svegli tutti. Perché qua non si fa tutto questo chiasso? Io ero di là che stavo lavorando e tu e i tuoi amici avete fatto... Io mi chiamo Michela, e tu? E tu che cos'è, il cognome? No, e tu, tu come ti chiami? Io mi chiamo... Certo, aspetta, non me lo dire, io ti conosco, tu sei Mattia, lo scrittore. Ho pure il tuo libro da qualche parte. Vuoi dire il mio ultimo capolavoro? Sì, eccolo qua. Me lo firmi, per favore?